Messo in funzione il primo impianto fotovoltaico del comune di Eboli, realizzato diversi anni fa sui tetti del cimitero comunale, oggetto di offerta migliorativa di un lavoro pubblico, l'impianto ha iniziato a produrre finalmente energia elettrica in scambio sul posto. L'attenzione di questa amministrazione comunale attraverso il continuo impegno del consigliere Mario Domini, spiega il sindaco Massimo Cariello, è stato di rilevare i diversi impianti realizzati ma mai connessi alla rete e quindi mai messi in produzione e di evidenziarli agli uffici competenti che con non poco lavoro per recuperare i documenti e verificare i requisiti richiesti dal distributore locale hanno potuto completare l'iter documentale.